Strada regionale 47 Dir al chilometro 2 più 600 Padova-Selvazzano, strada regionale 47 Dir al chilometro 2 più 900 Padova-Abano. Saranno posizionati qui, all'esito dello studio di fattibilità del progetto, i due nuovi autovelox su cui il comune di Abano da circa quattro anni sta lavorando con la prefettura. Ragioni di sicurezza stradale, spiega l'amministrazione termale, in un tratto dove anche di recente sono avvenuti incidenti mortali. Gli apparecchi saranno tarati sui limiti dei 70 chilometri orari, come già accade nelle due postazioni identiche che si trovano nei comuni di Albignasego e Selvazzano dentro. Una volta ottenuti via libera tecnici, gli autovelox dovrebbero entrare in funzione a partire dalla fine del 2023.